Traversi, uno degli arrestati, assieme al medico Aquilano Cavalieri, in una telefonata si spaccia per quello che non è. Sono il consigliere Traversi, presidenza consiglio dei ministri, devo parlare con Morgante. E poi, alza la voce, sono il consigliere Traversi, presidenza consiglio dei ministri, sono il consulente economico di sua eccellenza Letta, si sturi le orecchie. Dalle intercettazioni emerge che Traversi si rivolge così a un uscere della regione Abruzzo, chiedendo di incontrare il responsabile della segreteria del commissario per la ricostruzione, Antonio Morgante. Nelle intercettazioni è palese anche il tentativo di fare in modo che il comune entri nella fondazione. Una decisione mai presa, volevano però gli indagati usare Stefania Pezzopane come testa di ponte. La Pezzopane però ci aveva visto sempre del marcio, sin dall'inizio. Traversi è deciso, la Pezzopane afferma ci deve dare garanzie di entrata e ci deve dare una lettera di assenso. Se queste due cose non avvengono è guerra. Secondo Traversi, la Pezzopane sarà indotta a recepire questo invito, in quanto a suo dire per lei sarebbe conveniente sotto il profilo dell'immagine, in quanto si vuole candidare alla Camera e presentare Roberto Museo come sindaco dell'Aquila. Fin qui Traversi. Ma di queste ipotesi in chiave elettorale finora non si è mai parlato in città. La Pezzopane viene inseguita proprio per il fatto che Cialente sembra irremovibile nella sua posizione di diniego all'ingresso. E in un'intercettazione entra anche Giorgio De Matteis in una telefonata con l'avvocato Morgante. De Matteis definisce Cavaliere questo strano soggetto e poi il riferimento ai preti dice i preti facciano i preti, dice stizzito. Cavaliere si vanta che nella Fondazione Germozzi ci siano molti soggetti a su dire massoni e io stesso, afferma, sono stato integolato. In un'altra conversazione Cavaliere sostiene che Mimmo Sror ha già chiesto anche in politica il nostro aiuto. Noi dobbiamo riuscire a convergere il 7% di Mimmo perché l'Associazione Democratici Cristiani, gli indagati ne parlano ma non è formalmente costituita, è un'associazione per gestire parte dei 5 milioni di euro che Carlo Giovanardi ha sulla Fondazione. Noi partiamo con Museo, prepariamo tutto quanto e poi puntini puntini. Le garanzie sicuramente gliele diamo, però qui di far passare il nome di Museo come candidato sindaco non dipende solo da noi perché dovendo gestire una fondazione puntini puntini noi abbiamo l'elezione di Silvano Cappelli, le elezioni attorno in parte, varie cose. Stiamo facendo politica di altissimo livello. In un'altra intercettazione Cavaliere parla della candidatura di Museo con il padre Raffaele, capogruppo PDL nel Consiglio Comunale, che introduce un discorso di ritorno economico. Il CSV, Centro Servizi per il Volontariato, gestisce 2 milioni di euro. Lui ci deve dare il progetto con 200 mila euro. In più ci deve dare nella casa del volontariato che sta vicino alle Clerc almeno un tecnico interno nostro là dentro. Quando gli dico dei 200 mila euro, cioè, capito? L'esponente PDL ribatte. Io non ci devo stare. E il figlio? Solo quello ti sto dicendo. La procura dice anche che Cavaliere non ha mai formulato questa richiesta a Museo perché non ce n'è stata occasione. Sempre la procura dice che in numerose occasioni Traversi avrebbe insistito molto affinché Cavaliere chiedessi soldi a Museo. Ancora in un dialogo tra padre e figlio, in riferimento a un altro organismo, la fondazione Maglio Germozzi, vedi, dice Gianfranco al genitore, è tutta una fondazione massonica. Spallanzani, forse si tratta di Ivano, presidente di Confartigianato e Massone, vicepresidente Luciano Di Marzio, lui e Lombardo sono massoni, io sono stato integolato. Secondo la procura, quest'ultima è la procedura per l'istruttoria per la missione a una loggia su iniziativa di Traversi.